Mannaggia! Quanto stasera? Caccamino di gente! C'ha tutto il culo ma fanno una palla! E che casca! Oh! Ho il pubblico che dà tutto c'è sacca e caccamino di gente! Ma lei deve stare in una doccia con la luce! Ma lei deve stare Ma lei deve stare con la luce! con la luce! Oh! Andiamoci a Matteo con la luce! E che casca! C'è la madre! Grazie! Grazie a tutti! Sì, ma lei! Applausi Poi, cosa? Tu hai fatto una propria data? Eh, ma non! Ti hai fatto fare io? Eh, ma non ci vado ma ci vado una non ho un po' a schiava Eh! Ma hai fatto una cosa di... 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 che mi organizzare? Eh... Stanno a voi! 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 A che c'è stato? Nun bel giornale! Lì c'è lì! E mi dai dentro la coppa a me che stai fatto lì! Ah! Ma hai fatto una coppa che è stato un paese che ha fatto un paese da qua ma non è che lo devo parlare Ma non ho pute ma non ho messo ma non ho messo ma non ho messo ma non ho messo Lui si queste rapproche ma non ho messo Avivato ma la tiro colpisce l'alba di Natà e l'alba di Natà e l'alba di Natà è l'alba di Natà ecco ci sono ma la tiro colpisce l'alba di Natà sia bene e qui si dice che il pensatore va bene bravo 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 piatto preferito da i vacanzini piatto preferito da i vacanzini e all'azienda tutta la faccina io lo voglio fare e qui mi ha detto fai friccina per la tua una buccia d'acqua e quanti vedi e quanti vedi che il collega me e allora mi chiede porto tutti i cilindri lasagne e che non fai ma non fai ma non fai ci porti il lavoro e allora piatto preferito da i vacanzini timbarlo è tutto a te insalate che è bello insalate che è bello ovviamente ciò che non le capisco quando ci trovo di calma e poi trovo che per niente eeeh eeeh un po' di calciate ci stanno voluti rubetta e chi se ne voluti no eeeh ma non lo hanno fatto rubetta non lo hanno visto più no non lo hanno visto più ci stanno voluti ci stanno voluti i punti e ci stanno voluti i punti no eeeh non decido no non decido eh no 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 eeeh i punti eh aladri 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 eh come io eh eeeh e contate qui ehi mail da te ma non le polere aladri città banneare preferendo l'agriciare l'agriciare è un ingilizzo in Sa Raspberry e chi c'è l'agriciare 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 terra cina ecco terra cina eeeh eh ecco terra cina terra cina città un ingibile cosa Città della Permanente, città della Permanente, sta verso il baiolo, quando si fa e si vede tutti i cammini, perché si hanno fatto acqua, hanno dato la casa, avevano dato la casa, però ci hanno fatto tutto il baiolo, che si è bello, si è provato, si fanno una portata, città della Permanente, città della Permanente, alice, alice. E' un'altra cosa. Sì, ma io... ...fino di l'auto e il sufrato... ...fanno un'una che non c'è stata la carta, non si vuole i mali... ...e... provo il piano... ...però io la faccio, voglio la faccio... ...vò la faccio... ...vò la faccio... ...e... ...i faccio aspettare... ...è tutto cosa sai... ...quoi... ...dovemo scegliere a costa di una baracca... ...a mezzo... ...a mezzo... ...a te li diamo ne può... ...naglio ne può... Sottotitoli e scrittura Grazie a tutti